Buongiorno e ben trovati all'appuntamento con l'informazione su Telefriuli. Non possiamo permetterci di importare potenziali terroristi, lo afferma il presidente del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, parlando di Afghanistan, quando a Kabul si curano ancora i feriti dell'attentato kamikaze che ieri ha ucciso 90 persone, tra cui 13 soldati americani. Il rischio di infiltrazioni terroristiche, ha detto il governatore stamattina a Morning News su Canale 5, è elevatissimo. La situazione è estremamente preoccupante, sia sotto il profilo umanitario che per le ricadute in termini di sicurezza, ha commentato Fedriga. Non possiamo permetterci di importare potenziali terroristi in Europa e in Italia. I flussi migratori verso l'Italia lungo la rotta balcanica stanno aumentando, come testimoniato dalle centinaia di regolari fermati a Trieste nei giorni scorsi. Si ha aggiunto, anche alla luce di quanto sta succedendo in Afghanistan, il governo deve dunque potenziare subito il controllo dei confini. Talebani e ISIS sono due facce della medesima medaglia, con le quali non possiamo e non dobbiamo dialogare, ha sottolineato Fedriga. Eliminare le frange estremiste dell'Islam rappresenta una forma di tutela sia per i cittadini afghani che per l'intero Occidente. Ancora rintracci di migranti in Friuli, una ventina, quelli individuati nelle ultime 48 ore a Cervignano e un piccolo gruppo bagnari Arsa vicino al palazzo del municipio. Sono stati accompagnati all'ex caserma Cavarzerani di Udine. Ieri sera, inoltre, intorno alle 20, a Udile sono stati rintracciati due migranti, entrambi pakistani e maggiorenni, irregolari sul territorio nazionale. Anche loro sono stati portati alla Cavarzerani dai militari dell'Arma del Nord di Udine. Hanno richiesto asilo. Traffico da bollino nero nell'ultimo fine settimana di agosto sulla rete autostradale gestita da Autovie Venete. Quello che inizia oggi sarà un weekend caratterizzato prevalentemente dal controesodo, il secondo di questa stagione estiva. Secondo le previsioni della concessionaria, calcolate in base all'andamento del traffico delle scorse settimane, tra domani e domenica è previsto il transito di quasi 300 mila veicoli. Di questi, spiega Autovie, più di 40 mila faranno ingresso alla barriera di Trieste-Lisert, di rientro dalla Slovenia e dalla Croazia, e 25 mila al casello di Latisana, di ritorno dalle località balneari di Lignano e Bibione. In molti transiteranno sulla A23 da Udine Sud al nodo di Palmanova, chi proveniente dalla montagna, chi dall'Austria o dai paesi del centro-est Europa, lavoratori diretti nel nord Italia. Fin da domani mattina, a Verde Autovie, il traffico sarà sostenuto lungo la direttrice Trieste-Venezia e la A23 verso l'intersezione con la A4. La concessionaria ha previsto rinforzi ai caselli, non solo con il personale all'esazione, ma anche con piazzalisti, mezzi dei soccorsi meccanici e personale sanitario. Stop alla circolazione dei mezzi pesanti dalle 8 alle 16 di sabato e dalle 7 alle 22 di domenica. Dopo i 2 milioni di euro portati a casa da una signora di Udine che in tabaccheria ha acquistato Gratta e Vinci per 10 euro, in provincia di Udine è tornata in visita la Dea Bendata. In un bar di Codroipo è stato centrato un 5 al superenalotto che vale poco o meno di 56 mila euro, 55.962,82 centesimi per la precisione. In Friuli-Venezia Giulia il 6 manca dal 2013 quando a Palazzolo dello Stella furono vinti oltre 53 milioni di euro. Grande successo ieri sera a Palmanova per il concerto della nuova star del pop San Giovanni. Piazza Grande si è riempita di 2000 persone, in particolare di piccoli e adolescenti, provenienti da tutto il nord-est. Era dai tempi dei Take That che non si vedeva un tale fermento di ragazzi, ha confermato l'organizzatore della data flurana Loris Tramontin che ribadisce l'importanza dei Green Pass anche per aumentare il numero degli spettatori durante gli spettacoli. Vediamo il servizio. San Giovanni è stata una sorpresa anche per noi, è partito di colpo, sta sfracelando l'Italia con numeri impressionanti, avevamo esaurito in pochi giorni e non era facile, sono dai tempi dei Take That che non vedevo robe così italiane con tutti i ragazzini e ragazzine ed è quindi anche bello vedere un pubblico diverso. La gestione del Green Pass nei concerti vi ha messo in difficoltà oppure la risposta dei giovani nel vaccinarsi e appunto presentarsi agli grandi eventi è stata positiva? Ma allora, positivo no perché è un lavoro in più che tocca fare a noi e noi lo facciamo. Chiaramente il giovane o la persona che viene al concerto ha capito che non può entrare senza Green Pass e ce l'ha, quindi se uno vuole andare a vedere un concerto o fa il tampone o ha il Green Pass. Quindi questo è un aiuto che la gente si vaccini, perché la nostra idea sarà che domani, ma un domani molto veloce, possiamo andare in un palazzetto che contiene 5.000 e ci dinano la capienza di 5.000 che siano pur tutti col Green Pass, allora il Green Pass ha un senso, se ci danno il 30% o il 40% non ha più un senso, ecco questa è la cosa che ci serve, che si capisca che con il Green Pass non ci sia mala. Torniamo per un attimo alla cronaca per un incidente stradale frontale, questa mattina intorno alle 7 lungo la viabilità principale che porta nel centro di Visco, nel territorio del comune di Visco. A scontrarsi due auto, una Lancia Ypsilon e una Nissan, rimaste entrambe sulla sede stradale dopo l'impatto. Su una delle due vetture viaggiavano un uomo e una donna del Palmarino, attorno ai 60 anni di età, poi soccorsi e trasportati all'ospedale di Palmanova per trauma toracico. L'azienda sanitaria Friuli Occidentale ha organizzato per sabato 4 settembre una seduta di vaccinazioni dedicata ai residenti dei comuni di Erto e Casso. I vaccini saranno somministrati per tutta la mattina a partire dalle 9.30 nella sala dell'ex municipio, già utilizzata per l'esecuzione dei tamponi grazie a un medico e quattro infermieri. Lo ha annunciato il vice governatore con delega alla salute, confermando che il buon esito dell'operazione condotta ieri a San Leonardo, nelle vali del Natisone, dall'azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale, testimoni all'utilità di azioni mirate di vaccinazione in loco per le zone più lontane dai centri vaccinali o difficilmente raggiungibili per i piccoli borghi con una popolazione ridotta e dall'età elevata. Martignacco investe sul wifi. Il collegamento alla rete sarà gratuito per chi accederà, oltre che al municipio, a strutture sportive, centri di aggregazione e in modo particolare al Parco dei Prati del Beato Bertrando, dove secondo la tradizione popolare il patriarca trovò la morte nel 1350. Vediamo il servizio. L'amministrazione comunale di Martignacco punta sulla valorizzazione del Parco dei Prati del Beato Bertrando, che partendo da Nogaredo si estende su circa 230 ettari, che comprendono terreni coltivati, prati e piccoli boschi. Per rendere l'area maggiormente fruibile, oltre ad aver inserito la cartellonistica, ha introdotto l'uso gratuito della wifi per poter conoscere storie itinerari di quest'oasi di verde che conserva ricchezze florovivaistiche rilevanti. Secondo la tradizione popolare, in quest'area nel 1350 morì il patriarca d'Aquileia Bertrando di San Genesio. Siamo riusciti ad ottenere 15.000 euro, suddivisi poi per tre anni, per dare la gratuità dal punto, dalla piazza di Nogaredo, da dove parte la prima accesso al Parco del Beato Bertrando, per la possibilità di, tramite il canale Facebook, il sito del Comune e i video promozionali, di capire come accedere al parco e di veramente viverlo come era vissuto negli anni. Per cui raccontare un po' la storia, la fauna e la flora del territorio. E avete pensato di incrementare ulteriormente il servizio anche in altre zone del paese? Abbiamo fatto questa installazione sulla sede municipale, sul centro civico di Torreano e sul campo sportivo principale di Martignacco, il palazzetto dello sport e il centro del tennis. Questo perché riteniamo dei punti strategici per l'aggregazione giovanile e anche perché sono dei punti strategici a livello turistico. Prenderanno il via lunedì a Trieste le riprese della terza stazione della serie TV per Rai 2, La Porta Rossa. Ne abbiamo parlato con l'attore protagonista Lino Guanciale, protagonista della serie, ospite ieri sera di Telefriuli durante la puntata speciale dedicata alla trentesima edizione di Mittelfest. Trieste, ha detto Guanciale, è una città molto importante per me dal punto di vista sia affettivo che artistico. Sentiamolo. Un passaggio rapido sulla fiction perché come dicevamo cominciano proprio lunedì a Trieste le riprese della terza stagione della serie TV, La Porta Rossa. Saremmo dovuti tornare prima a Trieste ma il Covid ahimè ha disassato ogni programma. L'idea di tornare a Trieste con questo lavoro che personalmente ho amato tanto, che per me è stato così importante perché mi ha concesso di fare cose diverse anche in televisione. È bella e preziosa perché so che rivedrò molti compagni di lavoro tra i tecnici oltre che tra gli attori sul set. So che rincontrerò una città che per me è fondamentale dal punto di vista non solo affettivo ma per il mio percorso artistico. E penso che saranno tre bei mesi di lavoro. E ai colonos di Villa Caccia di Lestizza per Avostani si è parlato del libro Lasciami il sogno che raccoglie il carteggio. 148 lettere tra Anna De Simone, insegnante di lettere di Milano e il poeta gradese Biagio Marin. Vediamo. Uno scambio epistolare dal 1982 al 1985 fra Biagio Marin, poeta gradese, ed Anna De Simone, poetessa e docente al liceo Carducci di Milano, è l'argomento che ha tenuto banco all'agriturismo e colonos di Villa Caccia di Lestizza per Avostanis, trentesima rassegna d'arte e cultura estiva organizzata dall'omonima associazione culturale, con Lasciami il sogno, titolo della serata, tratto dall'omonimo epistolario carteggio pubblicato dall'editore Il Ponte del Sale di Rovigo, con interventi del poeta ed editore Marco Munaro, del critico Mario Turello. Letture di Chiara Donada e Gianni Nistri e musiche di Riccardo Pes, coordinati dalla giornalista Martina del Piccolo, si è inteso omaggiare la saggista e critica letteraria e protagonista della cultura italiana milanese, avvicinatasi con sensibilità, competenza ed amore ai poeti del Friuli, in particolare a Pierluigi Cappello, del quale ha curato alcune opere, oltre che donato amicizia, attenzione e sostegno, e Biagio Marin, le cui liriche in dialetto gradese affascinarono Anna, che condivide la scoperta con i suoi studenti e ne fa oggetto di un lavoro in classe per l'annuario del liceo. Più che un'avventura critica è un'avventura d'amore. Così Giovanni Teseo definisce nella prefazione le 148 lettere di Lasciami il sogno, 67 delle quale scritte da Biagio e 81 da Anna, che costituiscono una preziosa testimonianza sugli ultimi tre anni di vita del poeta di Grado, costellati da dialoghi, scambi e colloqui di forte intimità fra i due protagonisti, rivelatori di caratteri tanto dissimili quanto congiunti. L'amore per il Friuli ha condotto la poetessa milanese anche a frequentare il cortile dei Colonos, che l'ha vista tra gli amici e i protagonisti della storia dell'omonima associazione culturale, dei cui valori e della cui originalità ha scritto facendo conoscere questa realtà a livello nazionale. Questa edizione del telegiornale termina qui, ma rimanete con noi, tra poco c'è a voi la linea. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio.